Insufficienza respiratoria e linfonodi ingrossati. Qualunque cosa sia, Quidd non respirerà ancora per molto. Foreman è qui perché il gioco è finito. No, perché la vita del paziente è quasi finita. Puoi chiamarlo come vuoi. Spremetevi le meningi, avanti. Ho bisogno di idee e non mi importa chi le tira fuori. Sì che ti importa. Questo è ancora un gioco. Premierai chi avrà l'idea giusta e punirai chi sbaglia. Assumi pure chi vuoi e facciamola finita. 13. Katner. Mi dispiace, andate a casa. Perché? Non ha importanza. Lui mi ha detto che devo... Potrebbe essere di stress respiratorio. Lo hai riempito di liquidi. A chiunque gocciolerebbe i polmoni dopo quell'intervento. Addio. Socca anafilattica. Non c'è traccia di broncospasso. Forse i linfonodi li causa la stimolazione cronica del sistema immunitario. Le impurità delle droghe possono... Spesso la droga è tagliata male. Una iperreazione immunitaria spiegherebbe tutto. Tutto è legato alla droga. È qui che vuoi arrivare. La storia del licenziamento era solo un incubo. Scoprite dove compra la droga e cosa contiene. Di Mercaprolo per l'avvelenamento da metalli pesanti. La competizione funziona. La competizione funziona. La competizione funziona. La competizione funziona.